Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel primo vlog del 2 di quadri Io sono Kilo e io sono Emo In questa arena disastrosa partiamo con il nostro primo vlog C'è senza volto, c'è senza volto Ancora andiamo piano, ancora un caldo Abbiamo tante cose da dirvi E poco tempo per farlo, no scherzo, tempo ce l'abbiamo Allora, innanzitutto L'altra cosa che sapete già naturalmente E che siamo arrivati a 12 iscritti 12 iscritti Abbiamo superato i 10 iscritti Madonna ragazzi che emozione Vabbè, è ora di aumentare ancora di più Perché più siamo meglio è Che i 20 iscritti sono pochi Però ci accontentiamo Andiamo avanti Inoltre La notizia della settimana Proprio notizia bomba E che siamo arrivati a 50 video 50 video Siamo arrivati infatti al 20esimo episodio Non riesci a muovermi io intanto Stissi Per onorare questo 50esimo episodio Fantastico Che diciamo è l'avviamento del canale Abbiamo Vabbè, basta parlare Abbiamo deciso di fare la nostra prima live Allora Si spera che ci usciremo La faremo su Twitch Perché no, perché stanno a spiegare Una piattaforma con YouTube Dove si possono creare un canale E fare la propria live Purtroppo credo che come prima live Non avremo poca gente Perché alla fine siamo 12 iscritti Quindi di cui soltanto i pochi ci seguono Abbiamo per bene Quindi saremo pochi Però è uguale Noi ci accontentiamo Proviamo a fare questa live In cui staremo su Credo Minecraft Vanilla Staremo su Minecraft Vanilla E non solo E non solo Ci sposteremo un po' E creeremo qualcosa Faremo qualcosa di particolare Un episodio particolare Magari di seri No? E così via Speriamo che andrà bene La live uscirà domenica O non so bene come funziona Noi la facciamo domenica La live Quindi sì Perfetto Il canale È una live Tutto bene Nella arena Nant'altro Ti vedo, ti vedo male È un po' rosso Sudato Io ho voto E Gli amanti No E niente Oh In cora Qui abbiamo spesso usato i diversi Questo appunto è diversi Di due Che è una mappa in cui si sono Vare zone E che forse Futuro Non lo so Non credo Non credo Perché abbia già fatto Vedi Quindi non smettirla Facciamo Sì Facciamo altre mappure Abbiamo deciso di usare Usiamo diversi Diciamo quando dobbiamo fare Magari qualche vlog Qualche cosa Così a caso E dobbiamo parlare noi Allora siamo una mappa Così Sto per fare qualcosa E potre cosa dire Sì Ci sta E Niente Quindi Vi aspettiamo Numerosi Almeno quelle 4-5 persone Che si seguono Fate un accanto Così Le mail fa Sono quello che vi pare Su Twitch Cercate di Trovare anche i nostri Indirci Almeno per qualche minuto Poi vi piaceremo nel caso C'erano problemi Sì Se non riuscissimo Perché non abbiamo Nel che un cavolo di Twitch Quindi Vedremo un po' Cosa riusciremo a fare Questo video Questo video Che sto facendo Questo è un primo vlog Su Il vlog Iterato Non avranno una Carinza Cioè Saranno Quando abbiamo qualcosa Di importante Che non possiamo fare Di episodio Uscirà Al posto di Ma Vanilla Visto che Preventemente In una live Faremo Staremo Su Vanilla Quindi Mi sembra giusto Che il vlog Prenda il posto di Vanilla Quindi Io direi di Finire qui Questo primo vlog Limo non ha parlato tanto Perché era un po' impegnato A buonire male Però vabbè L'importante È che sapete Che cosa vi aspetta L'emozione assurda Della prima l'alto Ci saranno Due persone Non forse zero Vabbè ragazzi Venite a vedere Poi se vi piace Vieni Se no Ciao Quindi Per questo primo vlog Può essere tutto Mi raccomando Spedieste un bel like E venite a vedere da live Ciao a tutti Da due di qua